Nel giorno in cui per la vaccinazione anti-covid scendono in campo i medici di assistenza primaria a fare notizia è l'avvenuta immunizzazione di tutti i dipendenti delle aziende collegate al gruppo Neuromed, quindi non solo amministrativi, come è successo anche per i presidi sanitari pubblici, ma anche dipendenti di altre imprese, quali l'emittente televisiva riconducibile alla proprietà della clinica. Il caso, sollevato dalla testata online primo numero, nell'arco di poche ore è diventato virale sui social. La domanda che viene posta è perché abbiano usufruito del vaccino giornalisti e tecnici di quella tv locale, mentre ci sono persone che appartengono alle categorie fragili che sono ancora in attesa. L'ASREM, tramite le dichiarazioni della direttrice sanitaria Scafarto, ha spiegato che l'azienda si è limitata a consegnare al Neuromed le fiale che spettavano all'istituto. E a chiarire i dettagli è stato anche l'addetto personale dell'europarlamentare Patriciello. Lo prevede il piano Arcuri, ha sottolineato Paolo Panaccione, ed è la stessa cosa che è avvenuta nelle aziende del gruppo che, oltre a personale sanitario, hanno personale amministrativo. Il giornalista Pietro Tonti, inoltre, è sceso in campo per placare le polemiche, spiegando che i dipendenti di TV Imolise hanno continui rapporti con le cliniche del Neuromed, quindi sono soggetti a rischio contagio. Grazie.